I boschi assicurano il futuro della vita sulla terra. Quando gli uomini distruggono gli alberi, la natura si ribella, causando catastrofi. Ma fortunatamente il bosco ha degli alleati formidabili che lo aiutano a svolgere un compito essenziale per la sua sopravvivenza, nonché per quella di tutti. Tutti i funghi rielaborano le sostanze organiche del terreno, contribuendo a formare l'humus del bosco, importantissimo per la crescita delle piante. Ma sia le piante che i funghi hanno sviluppato delle strategie riproduttive ingegnose e stupefacenti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione!